Allora, rieccoci, la storia è questa. L'altro giorno, ormai lo saprete, c'è stata un'aggressione a Firenze da parte del gruppo neofascista Azione Studentesca, peraltro simile nelle modalità a cose già viste in passato. Azione di branco, pestaggio di studenti, fuga successiva, e dopo un forte interessamento della politica nazionale. Ovviamente, e anche giustamente, si è molto parlato del gesto proprio per la sua natura intrinsecamente politica. I gruppi d'estrema destra, notoriamente, infatti, utilizzano la violenza come metodo di lotta politica. Non è una cosa lunare. E siccome al governo c'è la destra, e siccome Giorgia Meloni in passato è stata vicina ad Azione Studentesca, e siccome la stessa Meloni durante il suo insediamento parlava della simpatia con la quale avrebbe guardato i giovani studenti manifestanti, ma poi non ha aperto bocca quando questi giovani studenti sono stati picchiati dai neofascisti, di questa cosa si parla, ovviamente, da giorni. Un paio di giorni fa, la preside di una scuola ha quindi scritto una bella circolare stigmatizzando il gesto, e contrariamente ai pianistei, ministeriali e non, in questa lettera non si fa il nome di nessuno. Semplicemente la preside, Annalisa Savino, ci tende a sottolineare due cose, e in realtà è una circolare brevissima. La prima è a ragione, è un dato storico, la dirigente evidenzia come il fascismo non sia nato nelle grandi adunate di piazza che siamo abituati a vedere nei documentari dell'Istituto Luce, ma in gesti come questi, nei marciapiedi, nei pestaggi di studenti. Aggiungo anche io, di operai, di sindacalisti, di politici, di giornalisti, chiunque non fosse considerato amico. Questa è storia e non è un parere, non è una co-estoria. Seconda cosa, la preside evidenzia come ha questi atteggiamenti, evidenziati anche su altri temi tipici dei nazionalismi, tipo la paura del diverso, il chiudersi nei miti di purezza ancestrale, vanno combattuti con la cultura, che è esattamente quello che la preside sta facendo qui. Ora, dica il candidato come ha reagito Valditara, peraltro lo stesso Valditara che qualche mese fa parlava dell'umiliazione come ottimo metodo pedagogico. Allora, ha fatto tutte queste cose che sto per elencare, le ha fatte tutte. Uno, è andato in televisione stamattina a fare un piagnisteo dicendo che non c'è nessun pericolo fascismo in questo paese e derubricando il gesto a semplice rissa. Due, non contento, anche lamentato, presunte minacce di morte ricevute da non si sa bene chi, che anche lì stigmatizzare quattro studenti che ti fanno i cori e dicono che devi essere appesa a testa in giù, è senz'altro più importante di condannare la vera violenza quando avviene nelle strade. E poi tre, ha ovviamente distorto le parole della preside, dicendo che non c'è nulla di male nel culto della tradizione, riferendosi al passaggio in cui nella lettera si parla di culto del sangue degli avi, dimenticandosi ovviamente la parte successiva, cioè quella in cui l'insegnante parla del culto degli avi in contrapposizione ai diversi, che è una cosa completamente diversa, è una cosa completamente diversa, una cosa è dire ah che bello essere italiani, una cosa è dire ah che bella purezza di essere italiani, non vogliamo nessuno. è diverso, c'è una questione di contesto, sicuramente il ministro capisce bene il contesto, perché è il ministro della cultura, dell'istruzione, quindi lo sa. La parte più importante è che dopo un po' di giravolte Valditara minaccia in caso di comportamenti irriterati da parte della professoressa di prendere dei provvedimenti nei suoi confronti, professoressa che immagino non possa permettersi di fare sostanzialmente il suo lavoro, cioè insegnare agli studenti i valori della cultura, dell'antifascismo e della vita in società. Vietà, non si può fare questo. Valditara, contrario. Allora, premesso che mi accodo alle richieste di dimissioni che piovono un po' da ogni dove, perché Valditara è evidentemente inadatto a ricoprire il ruolo di ministro dell'istruzione, è proprio imbarazzante, come dire, io non voglio prendermela con i giornalisti, non sarò mai il tipo che dice agli altri come fare il loro lavoro. Però, vi invito ad andare a vedere la comparsa atta di Valditara stamattina a Mattino 5 News, una roba che danno a Mediaset, e ascoltare che tipo di domande gli vengono fatte dal giornalista che lo intervista. E che sostanzialmente, invece di intervistarlo, gli fa un sacco di assist, chiedendogli delle minacce di morte, parlando di un presunto antifascismo, e a un certo punto spingendosi ancora più in lì del ministro e provando a tirar dentro un altro dei grandi tormentoni dalla destra, cioè gli chiede se i veri fascisti non siano invece gli antifascisti che lo criticano. Dico questo e poi la smetto. In questo paese la maggioranza dei votanti ha scelto la destra, la sinistra è a pezzi, non la vota più nessuno, non interessa più a nessuno. Continuare a ripetere, come il governo più solido da anni sia in realtà poverino in balia di queste sinistre pazze che stanno mandando il paese al macero con il loro odio e la loro ideologia gender e le loro cose arcobaleno, mentre letteralmente ci sono le estreme destre che picchiano gli studenti e una professoressa rischia sanzioni disciplinari per aver osato criticare il pestaggio, è una cosa senza senso, è una cosa senza senso. E sinceramente a vedere l'intervista così fatta, in cui al ministro non gli si dice niente, non gli si dice nulla, nessun ostacolo gli si mette di fronte, ma è libero di dire tutto quello che vuole e anzi lui dice che la professoressa dovrebbe mostrargli solidarietà al... A me mi fa un po' arrabbiare, ok? È un po' deprimente questa cosa perché è evidente che ci sia uno scollamento enorme tra il paese e come raccontiamo il paese, ma è molto importante. E quando lo si dice della sinistra, la sinistra che si è allontanata dai quartieri popolari, dalla realtà, la ZTL, sono tutti d'accordissimo con il dire che è vero, però basta un attimo guardare i canali dove normalmente avviene l'informazione più orientata verso destra, più governativa, per rendersi conto che c'è proprio un racconto di questo paese diverso, che non ha alcuna aderenza con la realtà. La smetto, parliamo ad altro. Spesso mi è capita di pensare a come ci sia un continente preciso che tende ad essere monoliticizzato, cioè descritto come se non ci fossero particolari differenze al suo interno, culturali, politiche, geografiche, e questo accade ovviamente per ragioni economiche. E parliamo dell'Africa, che pur rappresentando un quinto della superficie terrestre e più del 17% della popolazione mondiale, ha un'economia che corrisponde a neanche il 3% di quella globale, la dove ad esempio solo l'Asia tiene il 40%, l'America del Nord il 28% e l'Europa quasi il 23%. Ora, tra gli stati che più contribuiscono allo sviluppo economico del continente africano ce n'è uno che si distingue particolarmente, che se mi conoscete sapete essere un po' una mia ossessione, la Nigeria, che oltre a essere il paese più popoloso del continente e il sesto al mondo con i suoi 225 milioni di persone, è infatti anche il più ricco. E credo valga la pena ora soffermarci un po' a parlarne per varie ragioni. Sabato la Nigeria affronterà le sue elezioni presidenziali, che però quest'anno riportano delle caratteristiche inedite, perlomeno rispetto agli ultimi decenni. La consuetudine voleva infatti che la competizione fosse tra due candidati che rispettassero alcuni requisiti. Primo, devono far parte dei due partiti principali, il congresso di tutti i progressisti, il socio-democratico e il partito democratico popolare di centro-destra, e secondo, uno viene solitamente da un background musulmano e l'altro cristiano, essendo il paese fortemente diviso tra queste due fedi, anche geograficamente. Però stavolta è diverso. Prima di tutto, i due candidati dei due partiti principali sono entrambi musulmani, e si tratta di Bolatinubu, per il congresso di tutti i progressisti, settantenne multimilionario, il cui slogan è il mio turno, che insomma non si capisce bene se sia il suo turno o il turno di chi lo vota... non è un buon pay-off comunque. Il mio turno. No, no, no. Mentre dall'altra parte c'è Atiko Abubakar per il partito democratico popolare, ex vicepresidente 76enne, sempre multimilionario, che partecipa alle elezioni, per diverse cariche, dal 99, quindi è un altro volto abbastanza conosciuto nella politica nigeriana. L'eccezione più grande però non è che siano entrambi musulmani, quanto che stavolta ci sia un terzo candidato a mettere scompili alle consuetudini, perché ha un certo seguito. Si chiama Peter Obi, è più giovane dei suoi rivali, anche se non tantissimo, ha 61 anni, è cristiano, e questo è un elemento considerato importante, aderisce almeno a un noto partito laborista, quindi un partito di sinistra, e per essere riuscito a raccogliere un bacino di utenza più giovane, che evidentemente gli altri non riescono ad intercettare. Fan che hanno persino un nome, si fanno chiamare gli obedience, e sono tantissimi. Fate conto che secondo le proiezioni a lui più favorevoli, Obi rischia di raccimolare il 41% dei voti, e in generale la gara sembra essere tra lui e Tinubu. Però dobbiamo chiederci, perché è così popolare tra i giovani? Che vogliono sti obedience? Premetto che l'età media in Nigeria è bassissima, di 17 anni, mentre quella italiana è quasi di 48, così per avere un'idea chiara. E pensate che il 70% dei cittadini hanno meno di 30 anni, cosa che rende la Nigeria un altro pianeta rispetto al nostro. Significa che se vai in strada vedi principalmente ragazzi, ragazze, bambini e bambine, non anziani. Ecco, questo ci fa capire la portata politica che catturare questo elettorato, cosa che da noi non esiste, infatti le politiche sono principalmente rivolte agli anziani e ai pensionati, può avere nel paese, cioè sono elettori importanti, perché sono tanti, mentre da noi sono pochi e quindi non interessano a nessuno. Ovviamente le persone giovani sono giovani e in virtù di questo non hanno legami particolari con gli altri due partiti storici e si ritrovano liberi di scegliere come un'influenza, diciamo. Spinti peraltro da un fortissimo problema di disoccupazione giovanile che tocca quasi il 20%. Questo grafico evidenzia il picco dal 2015 in poi e queste problematiche comportano in Nigeria una notevole fuga di cervelli, problematica che in generale attraversa tutti i campi, ma soprattutto quello sanitario. Banalmente perché i giovani vanno a portare le loro capacità in UK, USA e Canada, che sono delle nazioni che, per come funzionano, sono molto bravi ad attirare talenti esteri. Noi anche se arrivassero non li vorremmo perché abbiamo dei primi, noi non abbiamo medici, ma arrivano i medici dalla Nigeria e sicuramente diremo no, no, e infatti da noi non vengono, però vanno in un sacco di posti e per la Nigeria è un problema. C'è poi un'altra questione che porta i giovani lettori a volgere lo sguardo altrove ed è la ricerca di sicurezza in generale. Pensate ad esempio ai frequenti rapimenti con riscatto che spessissimo colpiscono gli studenti e le studentesse nelle scuole e che ormai nel paese sono diventati un vero e proprio business, ma anche alla cosiddetta police brutality, l'abuso di potere da parte delle forze dell'ordine. Vi ricordate i movimenti N-SARS ad esempio, no? È da un po' che non ne parliamo, vi riporto indietro al 2020 perché in quell'anno si diffuse lo slogan N-SARS, là dove con SARS non intendiamo nessuna sindrome respiratoria, ma l'acronimo dell'unità della polizia nigeriana che per decenni si è occupata di crimini come furti, rapine e rapimenti. E che in quell'anno è stato al centro di grossissime proteste dovute alla corruzione di questi reparti e al fatto che agissero come delle sorte di milizie o gang, ma con la protezione dello Stato. E fu una cosa così grande che in alcune di queste proteste alcuni manifestanti persero la vita. Ecco, in quel frangente il governo nigeriano non si era affatto reso collaborativo, anzi al contrario aveva persino bloccato Twitter per sette mesi, ovviamente per ostacolare l'organizzazione delle proteste. Ecco, a questo proposito il candidato Obi ha sinora mostrato interesse impegnandosi a riformare la polizia con programmi mirati che la rendano meno violenta e più professionale. E non è tutto, pensava, e invece no. Pensava, no, non è tutto. C'è ancora una roba gigantesca. La storia potrebbe infatti chiudersi qui, sabato ci sono queste elezioni, potrebbe vincere una nuova voce, fine della storia, e invece no, perché i fili narrativi di queste elezioni si stanno incrociando con altre questioni politiche, sociali ed economiche che stanno portando i cittadini nigeriani a una condizione di estremo disagio e tutto inizia con la decisione del governo di cambiare valuta. Ben quattro mesi fa, infatti, il presidente uscente Buhari ha annunciato la riprogettazione della Naira, la valuta nigeriana appunto, ponendo come scadenza per restituire tutte le vecchie banconote e monete il 10 febbraio. Stando alle dichiarazioni, i scopi di questo cambiamento erano molteplici, ad esempio stimolare la transazione al cashless, quindi diversi pagamenti digitali, rimuovere le banconote contraffate in circolo, che a quanto pare erano moltissime, rimettere in giro la moneta, che molti nigeriani si tenevano a casa e quindi una sorta di stimolo per l'economia, per quanto sia un punto che non mi convince, devo dire, e infine combattere l'inflazione, che al momento è circa al 22%, moltissimo. Ora, al netto dell'efficacia del piano in sé per sé, ora non ne discutiamo, la realtà dei fatti è che tutto è andato un po' male e questa valuta ha messo la base per una situazione catastrofica. In questi giorni, infatti, gli ATM, i bancomat, per così dire, vedono avanti a sé interminabili filie di persone, non sempre pacifiche, che cercano di prelevare del denaro, che quando riescono a prelevare, prima che il denaro finisca, ricordiamo che parliamo di una nazione di oltre 200 milioni di persone, anche se riuscissero a prelevare, potrebbero ottenere un massimo di circa 40 dollari. E questo perché le persone hanno restituito le banconote, ma poi le nuove non erano disponibili nei quantitativi necessari, mandando il paese in una cosiddetta cash crisis, una crisi di contante. Che in un paese in cui i pagamenti elettronici non sono così sviluppati, perlomeno non pervasivamente in tutto il paese, è un bel problema. I racconti riportati dal New York Times sono infatti piuttosto dammatici tra chi non può comprare cibo, non può comprare medicine, ma non perché è troppo povero, ma proprio perché non ha i contanti e non riesce a prelevarli, a chi per questa ragione ha dovuto ritirare i figli da scuola, sino a questa chiesa qui che cercando modi per risolvere la questione delle donazioni dei fedeli, ha deciso di proiettare a tutto schermo dei numeri a cui fare dei bonifici. Quindi c'è il momento in cui si prega e poi c'è il momento bonifico, che è una cosa, è un... ok. Ora, ovviamente questo fiasco totale che sta facendo soffrire le persone e causando disagi nel paese, soprattutto nelle zone più periferiche, rischia di giocare un forte impatto sulle elezioni perché è proprio materia da campagna elettorale, ci arriviamo tutti, ma non solo nel segno che potremmo pensare, quindi in favore del candidato per così dire antisistema, cioè Obi, ma molte testate riportano che la situazione è tanto grave che la mancanza di denaro renderà più complesso muoversi, recarsi ai seggi o semplicemente alcuni potrebbero essere distrati da altre questioni più pressanti e non andare proprio alle urne. Questione che non è chiaro in che modo potrebbe influire sul risultato. E la cosa meravigliosa è che questa è una storia pazza che riguarda delle elezioni che decideranno la sorte di un paese popoloso la metà dell'intera Unione Europea e siccome l'Africa è appunto un'isola, è un luogo super esotico, fuori dal racconto mainstream, dai pensieri di chiunque, dai bilaterali, dai luoghi importanti, non ne sentiremo praticamente parlare. Votano sabato, un giorno prima delle primarie del PD, così ve lo ricordate. Torniamo a parlare di chat GPT, ormai strampamoso software di intelligenza artificiale in grado di elaborare in completa autonomia testi complessi e che a fine gennaio ha raggiunto dopo soli due mesi oltre 100 milioni di utenti. Ne abbiamo parlato spesso e continueremo realisticamente a parlarne molto, man mano che nuove frontiere in merito al suo utilizzo si affacciano sul mercato e nel caso di questa notizia parliamo di frontiere editoriali, per così dire. Ora, sulla possibilità che già GPT e in generale i software di questo tipo possano ad un certo punto arrivare a scrivere direttamente libri se ne è molto discusso e in genere il discorso avverte non sul sé ma sul quando. E infatti la notizia che è da una ricerca condotta dal giornalista di Reuters Greg Bensinger sarebbero ormai più di 200 libri pubblicati su Amazon, in particolare sul Kindle Store americano, in cui figura come autore o coautore chat GPT. 200 libri, molto bene. Ora, di che libri si tratta? Sta forse per finire l'epoca dell'editoria classica? Non proprio. Per lo meno, non ancora. Senza troppe sorprese infatti si tratta di libri che principalmente girano intorno allo stesso chat GPT. Manuali per usarlo, come fare i soldi con chat GPT, come scrivere un libro con chat GPT. Per quanto poi si trovi anche altro, tipo un libro di poesie o libri per l'infanzia, che se state guardando, sono tipo questi. Variano da un normale orsetto in copertina a un cane con cinque zampe. Perché sì, anche le illustrazioni sono affidate a un'intelligenza artificiale e lì la bellezza. È tutto fatto dalle macchine. Un mondo perfetto. Ma tornando alla notizia, Bensinger indaga su quante copie vengono effettivamente vendute di questi libri e intervista il coautore di una di queste opere intitolata The Wise Little Squirrel, un piccolo scogliatolo saggio che peraltro insegna ai bambini le basi del capitalismo usando la metafora di uno scogliatolo che commercia in ghiande. Che è una roba. Insomma, cosa ha scoperto questo giornalista di Reuters? Che parliamo alla fine di circa una dozzina di libri venduti. Quindi nulla di così spaventoso, anche se è probabile che la portata di questo fenomeno assumerà col tempo dei contorni più ampi. Per quanto di nuovo, io c'entro di comunque pianino. Ma fate conto che Amazon, che controlla secondo alcune stime l'80% del mercato degli ebook, grazie al servizio di autopubblicazione di Kindle, nato nel 2007, consente appunto a chiunque di scrivere, vendere e pubblicare il proprio libro. Quindi bypassando l'intervento delle case editrici. È una soluzione estremamente popolare per le opere amatoriali, diciamo, per chi non scrive in genere i bestseller. Ed è quindi plausibile non tanto che ci siano alcuni libri a un certo punto scritti con G.G.P.T. che vendano moltissimo, ma che ce ne siano una vagonata, prodotti a costo zero, che magari venderanno ognuno qualcosa. In qualche modo spalmando gli acquisti su una base resa estremamente ampia dall'attività creativa dei bot. Insomma, secondo me, ma è il mio punto di vista, a un certo punto saremo invasi di queste opere scritte con le intelligenze artificiali, però per ora dubito che una di queste possa diventare un bestseller. Ecco. Anche perché sono tutte molto simili. Peraltro, parlando appunto della paternità delle opere, chi ha citato G.G.P.T. come autore l'ha fatto liberamente, ma viene da chiedersi quante altre persone invece non l'abbiano fatto. Bensiger ha contattato Amazon per avere chiarimenti in merito, ma al momento sono dati che non possediamo, perché l'azienda si è limitata a rispondere che i libri autopubblicati sulla piattaforma devono rispettare semplicemente la proprietà intellettuale. Non c'è un reale controllo sui contenuti, ecco. Basta che non violino nessun copyright. Alla fine è normale che tutto questo sia così. Lo diciamo spesso. Siamo nel pieno di quella fase in cui una nuova tecnologia si espande in maniera velocissima, senza alcun tipo di limite, e ci vorrà realisticamente molto più tempo di un paio di mesi prima che le aziende capiscano come ed eventualmente se prendere una posizione in merito. Anche solo normativa, se non censoria. Fate conto che si sta sperimentando con i chatbot più o meno ovunque, anche da noi. Per dire, Mario Natangelo, giornalista e vignettista del Fatto quotidiano, ha creato dei fumetti basati proprio su cose dette a ChatGPT, fatte generare da ChatGPT, con risultati un po' altalenanti perché l'umorismo dell'intelligenza artificiale rimane per ora un po' piattino, cosa che è uno dei grandi limiti della tecnologia. In una di queste vignette, ad esempio, il prompt era la visita di Giorgia Meloni a Kiev, in cui lei e Zelensky discutono di robe un po' a caso però, mentre un altro prompt era Marco Travaglio, direttore del Fatto, su un elefante. E anche lì ChatGPT non è stata particolarmente divertente, diciamo, perché se state guardando il risultato è questo qui, con tutti i personaggi che sembrano dire cose un po' scollegate le une dalle altre. Insomma, diciamo che la completa sovrapposizione, Chat, creatività umana, è ancora lontanuccia, almeno per quanto riguarda le forme testuali, mentre con l'arte visiva siamo un po' più avanti, anche perché molti di noi non hanno in realtà gli strumenti per cogliere i plagi, probabilmente. Ma di nuovo è tutta una questione di tempisti che succederà, che non vuol dire che non sia fisiologico preoccuparsi in merito o provare a trovare una soluzione, ma almeno per quanto riguarda il settore editoriale non sembra ad oggi esserci un pericolo concreto. Detto questo, se vogliamo preoccuparci di cosa può fare un'intelligenza artificiale vi lascio con questo libro per bambini, in cui si insegnano loro le basi del commercio in criptovalute, usando un gatto che si chiama Bitcoin, e delle illustrazioni che lasciavo giudicare quanti incubi potrebbero causare in un bambino. O in un adulto, o in chiunque, in essere a base carbonico, chiunque. È una roba bella. E questo era anche tutto per oggi, grazie per aver guardato, mi raccomando, leggiamo i commenti, come al solito, anzi domani c'è Commenti al Quadrato per chi è abbonato al Club, Commenti al Quadrato è un podcast che facciamo uscire il venerdì, nei quali leggiamo un po' di commenti, ci facciamo un'idea dell'opinione, che la community ha delle cose che diciamo. E infatti vi ricordo che tutto quello che facciamo è sostenuto da un sistema di abbonamento che si chiama Breaking Italy Club. Potete andare a dare un'occhiata in descrizione per darci una mano, oppure andare direttamente con le vostre manine su BreakingItaly.club, oppure chiederci a GPT, che probabilmente non ha reali risposte, ma se ce li ha, buon per lui. Buon per lui. A domani.